Decida il popolo. Pasquale Aliberti si rimette alla volontà dei cittadini di Scafati dopo le polemiche e le richieste di dimissioni arrivate dall'opposizione. In una lettera alla città che guida da sette anni, il sindaco ha ripercorso l'ultimo periodo della sua vita nel quale scrive ho potuto realizzare il mio sogno di sempre, provare a costruire, progettare, migliorare, abbellire la nostra Scafati, la città che amo e nella quale ho sempre vissuto. Il primo cittadino confessa di non riuscire a restare indifferente davanti alle accuse pesantissime che gli vengono rivolte. A destabilizzare il percorso è stata l'inchiesta dell'antimafia che ha coinvolto Aliberti e tra gli altri la moglie e consigliera regionale Monica Paolino. Su di loro pendono accuse gravissime, dall'Associazione per delinquere alla corruzione, passando per la concussione, lo scambio di voto e l'abuso di ufficio. Il rispetto e la piena fiducia che ho nella magistratura e la mia attività di questi anni, continua il sindaco, non fermano però i miei oppositori dal gettarmi addosso quotidianamente fango e veleno, tentando di utilizzare un'inchiesta appena aperta e le pur gravissime ipotesi di reato come una condanna senza appello. La lettera mostra un Aliberti amareggiato a tratti sconvolto dal fuoco incrociato. Sono andati a denunciare presso le procure che io sarei il mandante politico di attentati dinamitardi. Accuse inaccettabili. Nessun uomo può subire tanta violenza restando indifferente. Per loro sono un camorrista, un killer, un bombarolo. Io ho paura di tutto questo. Io non sono né un camorrista né un malfattore, prosegue il sindaco di Scafati e lo dimostrerò nelle sedi competenti. Da qui la difficile decisione di mollare la presa. Devo rimettere il mio mandato nelle mani di chi me l'ha per ben due volte affidato, scrive, lasciando giudicare ai miei cittadini la qualità dell'impegno di questi anni. Grazie a tutti.